Oggi noi abbiamo messo in rete due comuni che sono distanti 60 km l'uno dall'altro ma in verità hanno le stesse caratteristiche, hanno due sistemi di grotte bellissime e stupende mettiamo in rete questi due comuni con le grotte di Pietra Secca, Carzoli, con le grotte di Stiffe e il comune di San Demetrio per creare un turismo diverso pensate che solo le grotte di Stiffe hanno più di 45.000 visitatori paganti l'anno e lo stesso avviene per le grotte di Carzoli di Pietra Secca questo progetto sostenuto anche dalla fondazione Carispa che prevede inoltre la realizzazione di corsi esperienziali all'interno delle grotte io ho fatto votare un emendamento dall'intero consiglio regionale in cui il sistema delle grotte di Stiffe e di San Demetrio è stato riconosciuto appunto come patrimonio turistico-culturale della regione Abruzzo